37 scartano così il risultato di Vittorio Vagnale e il Piemonte chiude a 13 penalità parte adesso la Sicilia di Gaetano Di Bella che schiera Lorenzo Sciacca come suo ultimo alfiere e ne sella a Webster e le 351 la Sicilia così come in Lazio ha già zero penalità con i primi tre concorrenti e ne sella a Webster e le 351 la Sicilia così come in Lazio ha già zero penalità con i primi tre concorrenti e ne sella a Webster e le 351 la Sicilia così come in Lazio ha già zero penalità con i primi tre concorrenti e io ne sella a Webster e le 352 la Sicilia così come in Lazio ha già zero penalità con i primi tre concorrenti e io ne sono pronti 0 il risultato 66 secondi ed 88 questo a livello individuale per ora è il terzo miglior risultato quello di Lorenzo Sciacca e quindi anche la Sicilia